Sette, otto, nove, dieci, arrivo! Nasci tutto da un cortometraggio che ci siamo divertiti a scrivere e realizzare lo scorso anno. E cerca di renderti presentabile, almeno oggi, d'accordo. Il progetto è nato quasi per gioco, ovviamente grazie all'aiuto di tante persone. Quello che stiamo chiedendo a voi adesso è quello di contribuire anche voi dandoci questa piccola mano che però per noi potrebbe essere fondamentale per portare a te il progetto nel miglior demico. Dai, ti prego, mamma, fammi andare con lui. Il soggetto è completamente originale, così come la corona sonora, le musiche. Noi il film lo stiamo già producendo. Il problema è che, come tutte le produzioni, ci sono delle spese, no? La sonata dov'è? È andata con la mamma. È presto, ok? Il rischio è che l'entusiasmo nostro non finisce. Potrebbero finire quei pochi fondi che abbiamo a disposizione e arriviamo a un punto in cui non ci sarà una fine e nessuno saprà mai come va a finire questa storia. Adesso esco, chiedi? Qui dentro, venite a fare caldo! Qui dentro, venite a fare caldo!